è meglio Elena sono Barbara Elena sono Barbara ascoltami se l'avvocato non sale è meglio perché così non acconsente al fatto di portarvi alla bambina hai capito? mi hanno anche tirato i capelli quando sono salita va a tirato i capelli più in terra i carabinieri ma ci sono subito i carabinieri due non volevano neanche farmi scendere da lei ma non so mica una mafiosa una parola vuoi che salga con te? vuoi che salga con te? eh provi a cercarlo ma chi è il magistrato? chi è il mio 12 si ma il nome e il cognome si sa chi è per intracciarla dormire lei non ha modo io non ho modo vuoi che salga io? si sa ho parlato con te l'altro giorno di Brescia si 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 sale lei finisce che ma come ha fatto? ti hanno seguito? questa è casita mamma? mi hanno seguito lì dove sono andata a fare la spesa mi hanno accerchiato mi sono corsi dietro fino alle scale poi mi hanno tirato giù per i capelli mentre correvo non ho parole non ho parole io non so chi di loro mi abbia messo le mani addosso non dica di no perché qualcuno mi ha strappato vedi come fanno è perché non c'erano loro a riprendere ma avete tirato i capelli non so chi sia stato ma avete tirato i capelli giù non si fa ma avete tirato è una cosa inaccettabile e dello stesso sono andati da mia mamma non loro quelli di cazzago a dire le parole a mia mamma davvero? si veramente ma non esponetevi in questa cosa è vergognoso non esponetevi vergognoso e bisogna dargli in mano i bambini fanno così anche quei ragazzi ma non è colpa loro è colpa di un giudice che ha svolto e ha fatto questa cosa ha fatto un decreto ai danni di una madre di una bambina e questa la profilassi l'ha fatto con me l'ha fatto con tantissime altre mamme quindi questa è la cosa vergognosa loro non c'entrano non c'entrano la colpa non c'entrano niente però non devono tirare i capelli no, mettere le mani addosso no, non esiste cioè sono una donna solo perché sto correndo mi tirare i capelli per andare su non esiste sta cosa adesso noi quello che possiamo fare è con l'associazione Angeli e Demoni fare un caos mediatico e cercare di portarla via al più presto e che gli assistenti si sveglino a dire che il suo fratello è una famiglia più regolare no, perché adesso dicono che vogliono valutare anche il papà ho visto che è vero il passaggio ancora il papà che non l'ha mai guardata venga via a parlare con lui con gli esseri soteri no, no è meglio di noi ho già parlato prima sì, sì che valutano anche il papà adesso il problema è che li trattano come carte va bene? ecco purtroppo dobbiamo fare affettare con un bambino adesso io non lo so con la bambina qua come poi no, ma non vuole uscire ma certo che non vuole uscire non vuole uscire non vuole uscire non vuole uscire se vuoi vengo su e di dire registro tutto tranquilla devi stare forte devi stare forte stanno portando via una bambina ti la prende adesso non vuole venire no, non la prende nessuno la bambina qui c'è come ve la ricerca che ha luci le porte capisce le porte video registro tutto chiudete, chiudete mi aprite per favore chiudete 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 che non devono entrare vedi che registra tutto di una mamma che l'ha portato via ciao cucciola ciao devi essere tanto forte lo sai perché la tua mamma è tanto forte mi dici amore come ti chiami? Laura cucciola stai tranquilla stai tanto tranquilla perché la tua mamma lotta tanto per te ok? Laura tu cosa vuoi? cosa vuoi fare? non voglio andare da casa non vuoi andare da casa certo e noi impediremo che succeda questa cosa ma siccome c'è un giudice che ha stabilito questa cosa tu devi essere molto brava e forte non devi aver paura cucciola devi essere molto forte stringi forte forte la tua mamma e non lasciarla più ok? tu stringila forte forte e non lasciarla e non lasciarla andrea si che è e non lasciarla più e non lasciarla più Grazie